Quali sono gli stadi della Leismania? La Leismania prevede 5 stadi fondamentali. Il primo stadio è lo stadio del paziente potenzialmente infetto. Cosa vuol dire? Il paziente non ha ancora la malattia ma vive in zona endemica, quindi potenzialmente è infetto all'infezione. Tutti i cani che vivono in zona endemica, e l'Italia è quasi tutta zona endemica, sono primo stadio, potenzialmente infetti. Su questi pazienti la prevenzione è l'arma numero uno per evitare che l'animale si infetti. Poi c'è il secondo stadio. Il secondo stadio è il paziente infetto non malato, cioè l'insetto vettore ha inoculato le Leismania nel cane, il cane risulterà positivo alle indagini diagnostiche ma non ha sintomi e le analisi sono perfette. Il terzo stadio invece è il paziente infetto malato, cioè il parassite è presente nel corpo, le difese immunitarie stanno rispondendo in modo anomalo che porteranno poi ai sintomi della malattia. Poi abbiamo il quarto stadio. Il quarto stadio è il soggetto infetto malato che sta avendo delle lesioni difficilmente reversibili. Le lesioni più gravi sono le lesioni renali che poi sono difficili da far regredire. Esiste un quinto stadio che è uno stadio più che altro terapeutico, cioè di quel paziente che non risponde alle terapie convenzionali o tende a recidivare frequentemente nella malattia. Quindi quando abbiamo la diangitilisbania bisogna capire a quali dei cinque stadio il paziente appartiene. Perché se è un secondo stadio la prognosi è molto favorevole, cioè se ne esce con buona probabilità anche il terzo stadio. Nel quarto stadio la patologia che si è innescata, come può essere l'insufficienza renale, va gestita parallelamente perché poi lei ha a crearci problemi più grossi. Nel quinto stadio, cioè nel paziente che è refrattario, ha i trattamenti standard, lì ci vuole una certa esperienza perché bisogna utilizzare dei farmaci non di uso comune per cercare di contrastare l'infezione.